Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina sindacale in apertura del telegiornale e ci occupiamo dell'avvertenza Gela che oggi è stata dibattuta durante un incontro promosso dall'UGL con i segretari nazionali. Il governo centrale, hanno riferito, deve occuparsi della vicenda in maniera forte e decisa. Vertenza Gela, sviluppo ed occupazione, i progetti da mettere in campo per risolvere la grave crisi occupazionale che interessa lo stabilimento gelese con i lavoratori dell'indotto in ansia per il loro presente ed il loro futuro. Se ne è parlato oggi allo del Sileno nell'ambito di un incontro promosso dall'UGL. I lavori sono stati aperti da Franco Tilaro, responsabile UGL Gela, presente tra gli altri Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici, Paolo Capone, segretario generale nazionale UGL. La preoccupazione che abbiamo veramente forte è legata soprattutto a quello che è l'andamento dei prezzi del petrolio sullo scenario internazionale che ai prezzi di oggi veramente diventa difficile produrre. E questo vale per Gela, per le trasformazioni, ma vale per tutto quanto il mondo, anche lo stesso mondo arabo. Questa è una grande preoccupazione. Insieme a questa preoccupazione abbiamo una preoccupazione invece più nostra, che riguarda anche la Sicilia, ma riguarda una vertenza Italia che secondo noi continua ad essere aperta, che è quella della mancanza di politiche industriali. Non si sono fatte politiche industriali negli ultimi tre anni. Non c'è un'indicazione, non c'è un destino per questo paese. Quindi andiamo dal petrolchimico e dall'abbandono per esempio della Versalis e della chimica da parte di Eni, andiamo a quella che è tutta la vertenza dell'Ilva, ma andiamo a una desertificazione industriale che sta colpendo il sud ma anche il nord. E quindi su questo siamo molto preoccupati. Luigi Ulgiati, segretario generale nazionale UGL Chimici, sottolinea che la situazione a Gela, come nel resto del meridione d'Italia, è preoccupante. La prossima settimana, il 24, abbiamo un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove cercheremo di fare il punto e cercheremo di dare quelle risposte che ormai questo territorio si aspetta. Qui non si tratta soltanto di far ripartire il polo industriale, il polo chimico, quindi la raffineria, e quindi far partire i lavori per la Green Refinery. Si tratta proprio di dare delle risposte ad un indotto che deve in qualche modo dare delle speranze ai cittadini di Gela. Giovanni Condorelli, segretario confederale nazionale politiche del Mezzogiorno. Noi siamo presenti ai tavoli per le vertenze più spinose che purtroppo stiamo vivendo in questo momento, dall'Ilba all'Eni ed altre problematiche che affliggono il meridione, dal quale purtroppo non si riesce a risalire, a riprendere quella strada della crescita che non esiste. Ecco perché noi diciamo a Renzi non so in quale paese vive, perché noi viviamo tutti i giorni la crisi e le difficoltà dei lavoratori e cerchiamo di portare avanti con la nostra presenza anche oggi qua a dei massimi vertici del sindacato in dando la vicinanza ai lavoratori, ma soprattutto di portare delle proposte ai tavoli prossimamente per dire che questo stato di crisi perenne non può più continuare. Interverrà anche la segretario regionale del Partito Democratico, Fausto Raciti, alla direzione provinciale del PD che si trarrà venerdì 19 febbraio prossimo alle 17 all'Hotel Sileno. Durante l'incontro si parlerà delle tematiche relative proprio alla vertenza Gela. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci della conferenza stampa che si svolta oggi in merito al passaggio dei comuni di Gela, Piazza Medina e Niscemi nella città metropolitana di Catania. Sentiamo Fabiola Polara. Franzone, un atto congiunto per diffidare i soggetti che ritenete responsabili della mancata attuazione del trasferimento del Comune di Gela nell'ambito del libero consorzio della città metropolitana di Catania. Da chi è stato firmato l'atto e che cosa chiedete? L'atto è un atto stragiudiziale di diffida ed è stato fatto nei confronti dell'assessore Landieri, nei confronti di Crocetta e nei confronti del Presidente Ars Ardizzone. L'atto non è altro che un richiamo ufficiale per queste personalità, per il grave ritardo con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti del passaggio di Gela, Piazza Medina e Niscemi nella città metropolitana di Catania. Questo ritardo comporta un danno anche economico per queste comunità perché non possono pianificare insieme agli altri comuni, insieme agli altri territori il loro futuro. Nel contempo la regione siciliana nel pianificare i servizi ci ricomprende con le vecchie province quindi oltre al danno morale nei confronti di chi si è espresso e quindi parliamo delle popolazioni, delle amministrazioni, dei consigli comunali, c'è anche un danno economico e questo non è più tollerabile. A distanza di tre mesi dall'ultimo delibere, dallo scadere della legge, attendiamo ancora oggi il disegno di legge per il passaggio alla città metropolitana di Catania. Franzone, chi ha firmato la diffida? La diffida è stata firmata oltre che dei presidenti dei quattro comitati di Gela, Piazza Medina e Niscemi, è stata firmata anche dei sindaci di Gela, di Piazza Medina e di Niscemi. Credo che i tempi si stiano allungando troppo, questo è un grido di allarme che faccio io ma lo fa anche Niscemi, lo fa anche la Gela perché i diritti dei cittadini vanno assolutamente tutelati e soprattutto alla luce proprio di questa attuazione in tutta Italia della legge del Rio non capiamo come la regione Sicilia ancora stia tentennando e siamo sempre gli ultimi, siamo partiti i primi ma siamo sempre gli ultimi. Io sono stato sabato ad un convegno ed Enzo Bianco diceva proprio una cosa importantissima, stiamo perdendo un treno ed è una cosa gravissima, Torino è la città metropolitana che già ha legiferato, sta volando, Catania, nella fattispecie ne siamo con Catania ma anche le altre città metropolitane della Sicilia quindi parlo di Palermo, parlo di Messina ma tutti liberi consorsi ancora non abbiamo assolutamente un quadro normativo chiaro e limpido. Non si capisce il perché come tutte le cose siciliane debbano avere questi percorsi strani e noi non stiamo facendo altro che sollecitare con questa diffida questo momento strano perché si parla di consorsi, si parla di città metropolitane ma ancora oggi non si sa nulla e non si fa nulla. La tecnologia NoDig, letteralmente senza scavo, per il collettore fognario di Via Venezia l'ha proposta il sindaco di Gela a Caltacqua e al lato idrico nel corso di un incontro voluto dalla Giunta al Palazzo di Città. La tecnica permette la posa in opera di tubazioni o il recupero funzionale, parziale o totale o la sostituzione di condotte interrate esistenti senza ricorrere agli scavi a cielo aperto evitando così le manomissioni di superficie eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale che costruito sul paesaggio, sulle strutture superficiali e sulle infrastrutture di trasporto. I lavori su Via Venezia avranno l'obiettivo di garantire la salute e l'incolumità pubbliche e specie durante le precipitazioni piovane con il corretto deflusso delle acque evitando lo sversamento dei liquami fognari. Il progetto va rimodulato in ottica NoDig tramite perforazione orizzontale ha spiegato il sindaco messinese per ridurre i costi e disagi durante l'esecuzione dell'opera. Eviteremo due chilometri di scavi grazie a camerette di spinta. Così, sottolinea ancora il sindaco, dai 15 milioni di euro da spendere nel 2023 adesso si passerà a circa 5 milioni con un progetto esecutivo che sarà pronto tra meno di un mese. Altri temi al centro dell'incontro che si è tenuto nell'ufficio di gabinetto del sindaco hanno riguardato varie priorità già avanzate dal primo cittadino ai dirigenti poi destituiti dall'ambito territoriale ottimale cioè dire il depuratore di contrada Roccazzelle, il collettore consortile e le reti idriche e fognarie. Il Comune di Gela è proprietario di 83 immobili di cui la maggior parte concessi in comodato d'uso gratuito ad enti ed associazioni con l'impegno a provvedere alla voltura delle utenze e alla manutenzione. In qualche caso anche di pagare un canone di locazione. Il consigliere comunale Giovanni Panebianco attraverso una interrogazione evidenzia che molte associazioni non hanno provveduto alla voltura delle utenze ed alla manutenzione o a pagare la locazione. Panebianco chiede che in questi casi si proceda alla revoca dell'immobile ed anche che le associazioni e gli enti paghino l'IMU e la Tasi. Chiediamo giustizia per gli indigenti e non favoritismi per i furbi. La politica clientelare degli anni scorsi non può danneggiare i concittadini deboli di oggi. Lo ha detto il sindaco di Gela esprimendo preoccupazione dopo aver appreso della bocciatura in commissione bilancio all'AS della sanatoria sull'occupazione delle case popolari in finanziaria. Non chiediamo la sanatoria per chi sta dentro una casa popolare occupata illegitamente, ha detto il sindaco, ma pretendiamo che coloro i quali per un bisogno reale hanno occupato un alloggio popolare possono ugualmente fare richiesta ed essere inseriti in gradatoria, potendo concorrere equamente senza togliere niente a nessuno. Una legge è giusta quando tiene conto dei bisogni delle persone e non si può giocare con la disperazione di tante famiglie che realmente hanno bisogno di un alloggio popolare. Chiediamo pubblicamente a tutti i deputati di promuovere questo semplice atto di giustizia sociale, consentire in modo equo a tutti quanti di poter fare richiesta di una casa popolare e di essere giudicati per i bisogni di oggi e non per gli errori di ieri. Quest'atto, oltre a tutti i parlamentari dell'ARS, ha concluso Messinese e deve vedere il presidente della regione siciliana schierato in prima persona per onorare gli impegni presi in piazza con indigenti che si sono aggrappati alle sue promesse. Il sistema della circolare e dell'interconnessione ispira il nuovo sistema di mobilità degli autobus urbani a Gela. Il piano presentato oggi dal sindaco prevede tre tratte con minori tempi di attesa e maggiore copertura e frequenza. In funzione della nuova espansione cittadina verranno servite anche le zone periferiche ed il lungomare, mentre per la frazione di Manfria, considerata zona extraurbana, a breve si darà un confronto con la ditta di trasporti incaricata. Sentiamo. Dopo tanti anni si cerca di dare ordine al trasporto pubblico rendendolo finalmente efficiente. L'idea è quella che non bisogna prendere il pullman come una sofferenza ma come una normale azione, come un normale mezzo di trasporto, un'opportunità per poter anche risparmiare ed evitare di essere schiavi della macchina. È stato congeniato il trasporto su tre linee, su tre linee circolari che si intersegono tra di loro, in modo tale da poter avere una frequenza dei pullman abbastanza elevati, in modo tale che non bisogna aspettare ore il pullman. Questo credo sia un lavoro che è importante per la città per poter dare quella vivibilità che tutti quanti ci aspettiamo. Tra le altre cose con questa nuova rimodulazione avremmo che i pullman passeranno vicino al parcheggio Arena, quindi fornendo indirettamente un servizio navetta e non passeranno più lungo il corso all'interno delle mura federiciane, consentendo finalmente di trasformare la ZTL in isola pedonale, un'isola pedonale per avere un giardino al centro della città. Questa è una cosa molto importante, a cui oggettivamente può cambiare il modo di vivere il centro storico. Inoltre il corso, dato che il pullman seguirà nel flusso normale delle autovetture, potrà essere, anzi, l'idea quella di trasformarla in una pista ciclabile che possa partire dal Calvario fino al cimitero. Queste sono le idee che stanno partendo, abbiamo fatto già un giro di prova per vedere se realmente è possibile percorrere queste strade con pullman di 12 metri, che sono quelle più grandi, in modo tale da non incorrere in problemi all'avvio del servizio, che avverrà comunque non prima di 15-20 giorni, perché bisogna fare una serie di ulteriori verifiche con l'AST e comunque la popolazione verrà avvisata in tempo in modo da non trovarsi impreparata. Ci sarà naturalmente l'avvio della prima linea e vedremo se in contemporanea possiamo fare partire anche le altre due, in modo tale da avere subito un servizio che copra tutta la città, compresa le zone periferiche. Sarà inaugurata domani alle 11 nel Museo Archeologico Regionale di Gela la vostra evento, la nave greca di Gela. Durante l'iniziativa è prevista l'apertura delle casse contenenti reperti, linee più significativi del relitto greco arcaico a seguito del restauro gestito dalla sovrintendenza dei beni culturali di Caltanissetta. Inoltre sarà possibile visionare alcuni oggetti appartenenti alla nave recuperati nelle ultime campagne di scavo attraverso una esposizione che descrive la vita di bordo, lavori a bordo e sulla nave. Domani sarà presente, tra gli altri, l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Carlo Vermiglio. È prevista per venerdì 19 febbraio alle 18 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela la presentazione del libro di Gaetano Tabbi, Francesco, il coraggio della scelta. Interverranno tra gli altri i dirigenti scolastici Maurizio Tedesco Ed Agatagueri, il vescovo della diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana e l'autore del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla piccola casa della misericordia. E sempre nei locali dell'Istituto Comprensivo Quasimodo di Gela, sempre venerdì ma alle 17, sarà inaugurata la mostra allestita dal Centro di Cultura Salvatore Zuppardo, dal titolo da Salvatore ad Alessandro, i Quasimodo di padre in figlio. La mostra sarà fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. L'ingresso è gratuito. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale, nell'ottica di una semplificazione procedurale AGEA già dall'anno scorso ha inserito nel regime di piccoli agricoltori tutti quei produttori agricoli che percepiscono un contributo inferiore a 1.250 euro. Questi produttori hanno l'obbligo di presentare la loro richiesta di contributo al proprio Centro Assistenza Agricola entro e non oltre il 29 febbraio prossimo. La delegazione AIRC di Gela, nell'ambito del programma di educazione alla salute e prevenzione attraverso l'informazione, ha organizzato due incontri per sabato 20 febbraio. Il primo è previsto per le 8.45 e si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Industriale Morselli diretto da Ina Ciotta ed è rivolto agli studenti. Il secondo incontro, previsto per le 10.45 si svolgerà presso la casa circondariale di Gela ed è rivolto ai detenuti. Relazionerà Placito Dagati, volontario AIRC, medico di informazione specialistica in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Catania. Lo comunica la delegata AIRC di Gela. Grazie a Condello Città. Anche quest'anno l'AIRC promuove l'uovo della ricerca per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica. L'iniziativa, ripetuta da più di 20 anni, viene anche promossa e sostenuta dal Direttore Generale alla Pubblica Istruzione. Si possono prenotare le uova presso le scuole che hanno aderito alla campagna oppure ai volontari della delegazione locale. Tipologia delle uova disponibili, uovo da 100 grammi per un contributo di 3 euro, uovo da 500 grammi, latte o fondente per una quota associativa di 15 euro e per la quale sarà emessa a relativa ricevuta. Sono disponibili anche uova giganti di 2, 2,5 kg e 3,5 kg da sorteggiare. Sono aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana 2016 organizzato dal Comitato di Gela, aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Età minima 14 anni. Il corso si compone di 7 moduli a carattere teorico-pratico per una durata complessiva di 18 ore durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso, BLS, sulla diffusione del diritto internazionale umanitario nel quale era chiusa la storia della Croce Rossa e sulla protezione civile. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo per informazioni 328 2477 645. Continuano gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese domenica 21 febbraio prossimo alle 19.00 al Palazzo Pignatelli, concerto lirico del trio Angela Curiale e soprano, Fabrizio Capizzi al violino e Giovanni Raddino al pianoforte. L'iniziativa porta alla firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. E ora lo sport, il calcio, domenica partita da vincere per il Gela in eccellenza. I biancazzurri se la vedranno al Presti con il Mussomeri. Il calendario prevede lo scontro tra Dattilo Noir e San Cataldese, le altre due squadre che assieme al Gela occupano la vetta del Girone A. Domenica non si deve sbagliare assolutamente, bisogna solo e soltanto vincere per farlo. La città deve rispondere presente ed accorrere in massa al vecchio Vincenzo Presti. Invitiamo tutti i gelesi, quelli veri, sportivi e non, a spingere gli undici in campo alla vittoria. Il riscatto di un'intera città può e deve partire dallo sport, dal calcio. Il messaggio dei tifosi della Curva Angelo Poscai è chiaro, diretto. Domenica prossima il Gela ha una grandissima occasione per scacciare le incertezze delle ultime settimane. Davanti al pubblico di casa, i biancazzurri del tecnico Totò Bruculeri riceveranno la visita del Mussomeli ed in contemporanea il calendario prevede lo scontro fratricida tra Dattilo Noir e San Cataldese, le altre due squadre che assieme al Gela guidano la classifica del Girone A del campionato di eccellenza. A prescindere dal risultato che maturerà in terra trapanese, i gelesi hanno un solo obiettivo da conseguire e si chiama successo. Altro non conta, perché, se vogliamo dirla tutta, il torneo è come se stesse aspettando proprio il Gela. E la dimostrazione la si è avuta proprio nel turno precedente. Il pareggio ottenuto dalla squadra, presieduta da Angelo Tuccio a Mondello contro la Parmonval, con tutti gli svolti polemici che ne sono seguiti e sui quali indaga la Lega, è stato attutito dagli altrettanti pareggi di San Cataldese in casa con il Castribuono e Dattilo in trasferta ad Alcamo. Ecco perché la partita di domenica assume una rilevanza di straordinaria importanza. Vincere significherebbe staccare una delle due accontententi. In caso di parità, infatti, tra Dattilo e San Cataldese, il Gela si porterebbe a più due. Dunque avanti tutta. E come ribadiscono i tifosi biancazzurri, quella che all'inizio di questo campionato poteva essere una semplice partita, rappresenta una grande chance per poter vincere il torneo. Usciamo fuori l'orgoglio ed il senso di appartenenza alla nostra città, sottolineano ancora i tifosi. Spingiamo il nostro giacalcio verso la Serie D. La partita di domenica avrà inizio alle 15. Ottimi risultati per gli attraiti della società sportiva Atletica Gioela, presieduta da Luigi Morselli, alla Maratolina di Capodorlando, alla quale hanno partecipato 1.200 attretti, Laura Granvillano è giunta terza nella categoria F45. Preziosi traguardi sono stati raggiunti anche da Luigi Bentivegna, Felice Bevilacqua e Yolanda Granvillano. La manifestazione nella città messinese era valida come prima prova del Grand Prix regionale di Maratonine. La prossima tappa del circuito regionale di Maratonine è prevista per il 6 marzo con la tredicesima edizione della Maratona della Concordia di Agrigento. E Freni con Richard Gere, il film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari, 17.30, 19.30 e 21.30. I prossimi 24 e 25 febbraio, sempre all'antitodo, sarà portato in scena a servizio in camera di Emanuele Giammusso. L'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Per informazioni ci sono due numeri telefonici, 0933 822707, lo ripetiamo, 0933 822707 e 338 7143 293, ripetiamo, 338 7143 293. Sabato 27 alle 21.15 e domenica 28 febbraio alle 17.15, invece, al Teatro Comunale Eschilo, Flavio Brezzaventre, Guia Ielo ed Agostino Zumbo porteranno in scema la bisbetica domata. Per informazioni, 0933 911892, ripetiamo, 0933 911892 e 345 5880580, ripetiamo, 345 5880580. Ed è stato rinviato, a data da destinarsi, invece, lo spettacolo di cabaret di Ernesto Maria Ponte previsto per questa sera alle 21.00 al Teatro Comunale Eschilo. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. domani, attenzione,Atiziamo, attenzione,